Ci occupiamo invece del Teatro Manzoni di Bologna, un concerto di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, l'ingresso di un nuovo e assai prestigioso sponsor, due importanti eventi annunciati ai quali seguiranno poi altri appuntamenti di rilievo che saranno svelati solamente nei prossimi giorni. Cominciamo a sentire le parole del maestro Giorgio Zagnoni al microfono di Michela Conficconi. Le novità dal punto di vista artistico sono sostanzialmente due. L'inaugurazione del ciclo della classica dell'orchestra filarmonica del Teatro Comunale di Bologna con Michele Marugliotti e Juan Diego Flores. Un grandissimo evento perché credo sia superfluo sottolineare che questo fa sicuramente dire il più grande, è sempre difficile ma sicuramente in questo momento è il tenore più importante al mondo che rarissimamente concede recital e che noi siamo riusciti ad avere 4 dicembre a Bologna. L'altra è quella di Michele Angelzotto che come ho accennato viene con una nuova produzione che credo sia veramente una cosa molto importante e straordinaria perché brotare sul palco del Teatro Manzoni un po' quelli che sono le origini del tango e sono una compagnia di 25 ballerini che credo veramente il pubblico potrà apprezzare moltissimo. Poi come avrete visto ci sono delle novità per quanto riguarda i sostenitori che come voi potete immaginare questo teatro ne ha veramente bisogno perché questo è un teatro che si può sorreggere solo ed esclusivamente con l'intervento dei privati e avere un partner come Maserati che ha praticamente firmato un contratto con il Teatro Manzoni di due anni per noi è una grande soddisfazione.